via bravo così se tirava dentro il pesero su bravo luigi fa lo fa se via via il peso il peso solo il peso di qua dove spostare dove spostare il peso e risulta via 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 a via via col petto è giusto la scarichi ma guarda guarda dove era al manubrio quasi per terra e devi stare centrale come se lo fai di diritto non pensare al dietro che ti scappa via te la tiri dietro e basta ma il manubrio deve essere diritto e poi la rifupperi dopo ma perché ma porca loca non 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 e lui bisogna mettergli l'andica sennò va più meglio degli altri scusa eh sì ma dopo mi gira la testa a me con questa qua via così bravo tirala adesso tirala tirala quello l'hai fatto bene vedi che l'ostacolo pensalo non pensare subito pensa dopo di recuperarlo e andare via perché se lo pensi prima sbagli dopo ti frena però adesso quello l'hai fatto bene ancora qui ti frena e se è il contrario ma c'è solo questa ostia mamma ancora oh su alto su alto giù giù lasciala saltino Matteo troppo lento troppo lento troppo lento dai al contrario no è solo questa ma va va ma va giri bravo 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 di buio vai bene vai bene Sergio Sergio oh ma perché non usi questo ma dico ma no perché se tu sei così ti dà l'idea che non lo puoi fare no così e poi la chiudi e vai via Sergio Sergio ma se tu usi questo non quello là lo tocchi dentro ti raddrizza il di dietro ce l'hai qua eh poi parti via pesato schiacciato tu riesci a farlo perché lì non hai tanta trazione eh ma tu però riesci a fare quel verso lì e poi raddrizzarti e andar via piano la schiacci giù allora basta dopo eh oh oh caddo da fermo si qua si ha perso la penivella le aveva schiacciata dentro bella questa mettevo giù il piede cazzo ho 50 euro di vena niente non la capiscono non c'è verso no ma non c'è quel tronco lì non riescono a farlo si a parte che la tua fa tu e non si sposta la loro si tu fai il colpetto vedi anche la sua come gli scivola via la tua non scivola e ciao a casa pernelli oh eri tutto dentro a uno che l'ho messo giù perché sono stupido lì l'ho messo giù perché mi ha fatto un po' di idea guarda che ci fa sognare il pettorino vai e guarda non ti fanno più venire al campo se non fai i numeri scusami muoviti facci sognare dai che mettevi qua ma poi a zero a casa pensa e si è chiusa la pediva e non si è aperta e lui dice chiusa la pediva zack 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 non c'era più e non è tornata giù no è rimasta giù la strada no dagli il colpetto via bravo Sergio dai 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 che gli altri è finita la volta che ti fermi lì come ti fa uno scemo eh ti proprio le viste qui tu l'hai girata giù non mai guarda lì non so l'uno guarda guarda il cappuccino che è la scorciatoia quella è la scorciatoia quella quella è in verde questo è in gru ah che c'ha messo giù ma qua invece che l'ultimo che gli ho detto l'ultimo a te va te lì Michele vieni vieni devi aiutarlo a te perché li attraverso qua sali qua fagli vedere Benelli scendi subito e poi sali di qua fagli vedere Benelli vieni ma guarda però fagli 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 che hai giustato troppo tempo troppo tempo va bene va bene va bene la stretta solo un po di più per me è la moto è la moto che non gira quello va fuori di là il tronco lì ce l'ha a morire un tronco di traverso e tutti in merda va finito finito ma fermi troppo subito devi spostare la carcassa no sta cercando altre strade ma lì non ce n'è devi prendere il sasso e devi andare via se no non riesci ma devi essere capace perché prendi il colpetto gli dai il colpo la raddrizza e poi la pesi vai via ma non è facile si uguale spampi vai metterne una là che andiamo alla fine mi state facendo fare 20 minuti di video mettiamo uno uscito vedi che alla fine poi tentano di farlo tutto stretto perché non siamo un cazzo ma perché lo tentano e lo fanno tutto qua il troppo devi fare in mezzo e poi salti giù ma lo puoi fare anche così lo devi farlo saltare eh sì invece si appoggiano e aspetto che viene natale dai vai là a mettere l'ultimo e basta dai così bravo dai non ti fermare via 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 no non via dalla moto benzina benzina sì tanto quello fuma fuma però il culo era troppo avanti per stare il culo indietro non hanno i pesi via 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 non hanno i pesi loro sono migliorati tanto perché davvero tante cose hanno migliorato un casino ma non hanno i pesi via 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 dai johnny via quello lo lasciamo lì ciao noi andiamo è micchi è stato bello ciao arrivederci ciao perché lì si è scavato c'è la terra smossa buttala buttala che morbida ecco se sali lì adesso cadi c'è di ma porno va bene via o tutti a casa dai via 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 andiamo 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 la fare l'ultima via prima che vi fate male andiamo andiamo che prima che vi impestate 12 meno 10